Grazie a tutti, c'è il sindaco del Nato che vuole dire? Grazie, buon servizio. Tanto ringrazio i miei diputatori perché finalmente anche noi siamo in un'edificio a capire cosa stiamo facendo, cosa stiamo cercando di fare. Tanto perché è una cosa da segnalare, è abbastanza curioso che il comune di Prado si confina per circa 1.800 metri, non si è mai stato, mai dico mai, ma è stato informato di tutto quello che si sta facendo. Corri testo istituzionale vuole che quando un'amministrazione mette in piedi un progetto che va a toccare anche l'interesse dell'altro territorio, almeno un minuto di informazione è la prossima, questo è una caduta di stile dell'altra amministrazione, non sono qui per fare polemica, ma all'esterno è un progetto, guardate, noi ci saremmo di fare. Noi siamo in conoscenza, solo 15 giorni fa, c'è stato l'allineamento di scopo, io non ho dovuto andare in l'altro decisivo, noi siamo assolutamente contrari, non c'è dubbio, iniziamo questa serie, ci siamo già mossi, abbiamo già allertato l'assessorato all'ambiente della nostra provincia, l'assessorato territorio, chiederemo di essere parte della conferenza dei servizi, perché non si possono fare dei progetti che mettono all'apentario i territori come il nostro, per noi credere dal punto di vista economico, dal punto di vista storico, dal punto di vista ambientale, metteteci tutto, per noi è una nostra vita, tutto il nostro periodo estivo si gioca con questo tipo, per cui aspettate da noi tutto quello che lezitamente noi possiamo fare, non lo faremo, però forse questo è così, su questo non si discute. Ho sentito dire che ho maggiorato, sono amministratore, anch'io non voglio dare lezioni, ma ragazzi quando si prendono impegni con i campi che state prendendo, quando si fanno gli interventi che vanno a modificare, non il presente, ma il futuro dei territori, non basta di considerare i territori, ma nessuno, bisogna andare a consultare tutti, questi progetti se non sono condivisi dalla gente, non si vanno nessuna parte, l'esperienza è un segno, chi è cercato di forzare dalla mamma, ma nella storia, in qualunque modo, è sempre rimasto sotto, quindi non si possono prendere l'iniziativa, se la gente non ha la storia, non basta che il Consiglio Comunale, non ne bastano tre, e non bastano quattro soldi per svegliere i territori, pensateci bene, noi siamo disponibili alla sentenza attorno al tavolo, ha ragionato, ha detto bene prima, bisogna anche pensare come fare strategie alternative, il nostro comune è il piccolo comune, noi abbiamo tenuto la regione delle stigioni più importanti, spenderemo circa 1.000 euro per studiare quali forze di energia alternativa si possono attuare su un altro territorio, ma lo studieremo insieme e lo discuteremo insieme, possiamo fare così tutti insieme, ma non si possono imporre decisioni che condizionano anche gli altri, quindi qui veramente fa il problema, un altro sindaco del Prado è un'attesa che le amministrazioni della regione Lombardia, che si accorgono per futuri programmi di sviluppo e di miglioramento, che si accorgono per futuri dei nostri dettori, dà la parola al dottor Mercati, che ci aggiorna, diciamo così, sul percorso bloccato. Potevo, avevo chiesto... Ah, chiedo scusa, avevo chiesto la parola al signore. Era sempre una semplice precisazione che chiedo a signore, ma quando fate i consigli comunali sono aperti a pubblico, pubblicate tutte le condizioni, perciò c'era l'ordine del giorno anche questo, chi voleva informarsi potrebbe informarsi, è solo questo. E questo non giustifica una scena di vostro genere come questo? No, non giustifico niente, come ho voluto, ho chiesto le mie informazioni... Questi signori che da Prodice vengono proposti, cos'è? Ma perché il fiume non ha abbastanza potenza, ovviamente, per far girare l'ordine del nostro. L'Inter prevede che ci siano 45 giorni per accogliere osservazioni, ok? Quindi il 22 dicembre finisce questo periodo iniziale per accogliere le osservazioni. Chi può fare l'osservazione? Le osservazioni vengono fatte da tutti gli enti pubblici e da altri contatori di interesse che appunto abbiano una rilevanza sul progetto. Gli enti pubblici in questo caso sono tutti i comuni toccati da questo progetto sono prendere posizioni. Allora, come si dice, o sì sì o no, non aspettiamo per vedere se la prova e poi diremmo se a noi va bene o no, perché poi per dire no bisogna andare in realtà, ok? Invece oggi c'è ancora una fase politica, soprattutto sulle piccole, molto urgente, ma è ancora una fase politica dove ciascun sindaco può andare in provincia, può venire nel proprio consiglio comunale a proporre una mozione e dire noi per quanto non siamo toccati direttamente a quel progetto siamo contro quel tipo di progetti. E questa cosa io credo che se, per esempio, il sindaco di Bobbio l'ha già fatto, non so se avete reato sulla libertà, il sindaco di Bobbio l'ha già preso apertamente posizione in conto. Le motivazioni politiche, io non mi indagano, non mi interessano nemmeno, ha preso posizione in conto. Se una quantità migliorante di sindaci in questo momento fa questa cosa, probabilmente la questione delle piccole si rimette in discussione, perché oggi le cosiddette piccole, che però dal punto di vista ambientale potrebbero non scatalizzatevi, faranno ancora più danno di questa grande, perché si tratta di tratti di canali e di fiumi dove non ci mettono le piede nessuno, dove la tua è incontaminata e va a morire, perché il deflusso minimo di tal, non so se avete letto, di 79 litri al secondo, ve lo fate in casa. Cioè, se mettiamo tra i cani e dell'acqua... Posso dare un suggerimento? Parlando di democrazia reale, ne abbiamo parlato, qualcuno ha sollevato il problema, il referendum, no? In comunità piccole come Ottone, ma anche posso dire anche Bobbio, perché siamo tra i 400 e i 3200 di Bobbio. Penso che su un'emergenza del genere forse sarebbe meglio fare un referendum o un qualcosa che assomiglia. Per cui penso che la democrazia reale, i cittadini, no? Cioè, chiedono, no? Quello che... Abbiamo parlato con l'assessore regionale, per cambiare regione, per passare in Liguria, se la Liguria eventualmente ci vuole essere. L'unico, l'assessore, parlando della gestione della testa, ma l'avete fatto prima a cambiare regione. Quindi adesso tutto... Sì, tutto basso. È un'altra cosa che volevo... non vorrei essere visto, e io dall'amministrazione, maggioranza, miglioranza, quelli che non mi hanno votato contro, perché noi l'abbiamo valutato, credo, che è nel problema e non l'abbiamo visto... non l'abbiamo vista in piedi di questa centrale. Voglio dire, ci trovate più vostri alleati, anche nel mondo del Brando, che i nemici la combattono. Voglio dire, ci sediamo, ne parliamo, io penso che la soluzione la proviamo sicuramente. Penso che c'è già, sì. Perché non ci dite niente.